Domenica 22 ottobre, dalle 7 alle 23, gli elettori lombardi saranno chiamati a votare sul referendum per l'autonomia, indetto dalla Regione Lombardia, recandosi, come sempre, nel proprio seggio elettorale. Il quesito referendario riguarda l'attribuzione di condizioni particolari di autonomia e relative risorse in considerazione della specialità della Regione Lombardia. Domenica 22 ottobre 2017. Referendum per l'autonomia. Grazie.